In questo video vi mostrerò come recuperare le credenziali del vostro post ID abilitato a speed quindi se avete dimenticato il nome utente o la password per accedere alla vostra identità digitale speed questo video vi mostrerà esattamente come risolvere questo problema ora la prima cosa da fare è andare sul sito posteid.poste.it come potete vedere qui e a questo punto potete vedere che ci sono queste due caselle quella che ci interessa è la seconda e sotto il pulsante accedi vedrete che c'è questo testo in blu hai dimenticato il nome utente o la password quindi andiamo a cliccare qui e a questo punto si aprirà questa schermata che ci aiuterà a recuperare le credenziali e dobbiamo scegliere una delle due opzioni voglio recuperare il mio nome utente oppure voglio effettuare il reset della password quindi in base a quale elemento mancante decidete a questo punto clicchiamo su procedi come possiamo vedere ad esempio per fare il reset della password occorre chiamare questo numero del cellulare che avete associato a posti di abilitato a speed a quel punto riceverete un'email all'indirizzo di posta elettronica associata e certificata del servizio speed con un link per scegliere la nuova password ora nel caso in cui avete dimenticato quindi ritorniamo, rifacciamo esattamente lo stesso passaggio nel caso in cui avete dimenticato il nome utente clicchiamo su procedi e come potete vedere si apre una schermata diversa nella quale vi chiederà il codice identificativo e questo qui è praticamente il codice identificativo della vostra identità post id che vi è stata fornita e questo codice lo potete trovare nel modulo di richiesta del servizio che vi è stato inviato per email alla registrazione secondariamente vi chiederà anche di inserire il codice di sicurezza quindi il codice che vedete qui potete anche selezionare l'opzione ascolta nel caso che il codice non sia così ben visibile o ci siano delle incongruenze e a quel punto cliccherete su prosegui ora io non voglio ripristinare le credenziali dell'account quindi quello che farò è semplicemente vi dico dall'alto quello che succede ci saranno una serie di passaggi veloci e molto semplici quindi l'unica cosa da fare è essenzialmente seguire le istruzioni sullo schermo da qui se avete dei problemi in questo processo quello che vi consiglio di fare è semplicemente di tornare sul sito postid.post.it e se andate in basso potete trovare due voci molto utili la prima è richiedi assistenza e si aprirà questo pop-up questa schermata con una serie di informazioni che potrebbero essere utili nel vostro caso ci sono anche una serie di indicazioni per casistiche più specifiche quindi in alternativa vi consiglio semplicemente di andare su questo pulsante qui che dice chiamaci e come potete vedere si aprirà questa nuova schermata quella che vi interessa, la sezione che vi interessa dato che ci sono tanti numeri di telefono e sezioni diverse per le diverse aree e servizi di posta e questo qui per assistenza sull'identità digitale e speed di poste italiane quindi 06 97 79 77 77 questo è il numero da contattare per avere una chiamata one on one con un operatore telefonico l'importante è che questo numero attivo da lunedì al sabato esclusi i festivi dalle ore 8 alle ore 20 quindi questo è tutto per questo video spero sia stato utile e ci vediamo al prossimo